La linea è che i fatti di ieri sono fatti gravi, sui quali è giusto che si faccia luce. Oggi Alfano verrà a riferire, ma credo che sia grave, confondere fatti come quelli di ieri col dibattito su stabilitaggio, abacte, eccetera, dove la posizione del sindacato al nostro punto di vista è irragionevole e sarebbe grave ricollegare le due cose. Sono due fatti che non hanno niente a che vedere, una cosa sono le tensioni sociali e un'altra è il dibattito politico sulle riforme.